Le povere anime del purgatorio sono le anime di persone decedute, che non sono ancora andate in paradiso. Sono anime che si trovano ancora in purgatorio. Sono anche chiamate altrove anime sante o elette, termini biblicamente più corretti di anime povere, anche se in qualche modo definirle povere è corretto perché dipendono da noi al cento per cento. I poveri infatti dipendono completamente dagli altri. Mia madre pregava molto per loro, dedicava loro molte azioni fatte con amore, portandole sempre nel cuore. Diceva spesso a noi bambini che se mai avessimo avuto bisogno di un qualsiasi aiuto avremmo dovuto chiederlo alle anime del purgatorio perché sono coloro che ci aiutano di più per un profondo senso di gratitudine nei nostri confronti.